A voi tutti buonasera e bentornati a Intorno alle 9. Questo fine settimana torna un appuntamento ormai consolidato e atteso non soltanto dai pratesi che diciamo in qualche modo vuole esaltare e valorizzare sempre di più quelle che sono le eccellenze gastronomiche del nostro territorio ma anche le bellezze artistiche e architettoniche. Stiamo parlando di IT Prato edizione 2022 di cui vogliamo parlare questa sera assieme all'assessore al turismo Gabriele Bosi. Buonasera. Buonasera ragazze per l'invito. Un appuntamento che si ripete anche quest'anno ma abbiamo usato la parola torna perché quest'anno in effetti verrà riproposto nella formula tradizionale senza le restrizioni e condizionamenti dovuti negli ultimi anni alla pandemia. Sì, in effetti siamo contenti di poter ripresentare IT Prato nella sua formula storica, quella che prevede ad esempio una cena in formato sostanzialmente buffet in cui ci si può ericare presso i ristoratori che hanno il loro stand nella serata di domenica 5 giugno, presso il Chiosso di San Domenico ma anche presso gli enologi, presso i pasticceri e poter scegliere i piatti che si vogliono acquistare. Quindi una formula itinerante, walking ma che avrà anche un momento collettivo che chiaramente durante la fase della pandemia aveva avuto più restrizioni. Intanto vediamo le immagini del sito internet dedicato alla Kermesse IT Prato, ricordiamo anzitutto l'appuntamento è per sabato 4 e domenica 5 giugno prossimi e la novità come ha accennato proprio poco fa l'assessore è la location dell'appuntamento principale, se così possiamo dire, quello della domenica sera ovvero il Chiosso di San Domenico. Ma andiamo per ordine e cominciamo appunto da sabato 4, un pomeriggio dedicato a dei tour guidati in città che si concluderà poi con una serie di degustazioni e iniziative al Giardino Buonamici. Si parte alle 17, tutte le informazioni anche per prenotarsi e partecipare ai tour li trovate proprio sul sito della manifestazione. Si, l'idea è quella di promuovere una manifestazione che valorizzi i prodotti tipici del territorio pratese, il saper fare dei nostri ristoratori, dei nostri pasticceri che sono oramai molto conosciuti anche a livello nazionale, anche perché vincono molto spesso anche delle competizioni di settore. A noi piace fare questa manifestazione tenendo insieme aspetti diversi, per questo motivo il Prato non è soltanto una manifestazione dell'enogastronomia, ma tiene insieme anche un'offerta legata alla bellezza artistica e culturale del nostro territorio. Per questo abbiamo pensato questa progettualità che si è in parte sviluppata proprio durante la pandemia, che è quella di immaginare dei percorsi guidati a piedi con gli aderenti, gli iscritti che potranno, avranno l'opportunità di fare questi itinerari nel centro storico della città accompagnati da guide turistiche, in tre luoghi in particolare, San Nicolò, il Chiosso di San Francesco, che sono due luoghi che magari non sempre sono accessibili, e poi il polo dell'Aes Campolmi, quindi il museo del tessuto e la biblioteca Lazzarini, un luogo che abbiamo voluto anche valorizzare all'interno della nostra programmazione del turismo industriale. I partecipanti potranno scegliere uno di questi itinerari oppure farli anche tutti e tre se vogliono e che poi dopo si concludono a Giardino Buonamici, dove troveranno un'accoglienza organizzata da Casotto Tipico e da ristoratori e produttori locali, dove potranno assaggiare i prodotti tipici, le proposte dei ristoratori e anche assaggiare i vini del territorio. Con tanto di musica e DJ set a fare da colonna sonora questo appuntamento del sabato, che poi ha anche una prosecuzione nella tarda serata, viene ripetuta la formula di It Prato Night con delle passeggiate, queste libere, attraverso una serie di esercizi, pasticcerie e quant'altro che rimarranno aperte per l'occasione. Sì, perché una delle caratteristiche di questa manifestazione è proprio quella della sinergia del lavoro di squadra con i ristoratori, con i pasticceri, con i gestori dei locali, che aderiscono all'iniziativa e che in questa occasione tutti quanti esporranno, sono oltre una trentina gli aderenti, in centro, nelle frazioni e anche in provincia, esporranno il logo It Prato e le persone potranno liberamente scegliere in quale locale andare, avranno l'opportunità di poter consumare anche dei piatti che rientrano nella filosofia di It Prato, quindi con la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio e riceveranno anche un gadget sempre legato a It Prato. Quindi diventa di fatto una manifestazione diffusa anche oltre quelli che sono gli itinerari proposti da noi, ma che vederà ecco una iniziativa diffusa su tutto quanto il territorio comunale e anche provinciale. E poi la domenica dicevamo l'evento Clou, quest'anno in San Domenico, nel chiostro del complesso monumentale di San Domenico, dove appunto ci sarà la grande serata evento con i pasticceri, i vini del territorio, in particolar modo i vini del Carmignano e tutte le pietanze preparate dai ristoratori. Perché la decisione di scegliere una nuova location e di puntare su San Domenico? Perché il chiostro di San Domenico è davvero un luogo molto bello, che è sempre più riscoperto dai pretesi, anche grazie alle tante iniziative che vengono svolte, quindi anche un ringraziamento che ha fatto la Diocesi, che lo ha messo a disposizione anche per questo nostro evento. È una location per noi nuova, ma a noi piace anche valorizzare i luoghi diversi del centro, ci piace valorizzarlo nella sua complessità, anche in un'ottica turistica, perché questa è una manifestazione turistica e pensiamo che un luogo come quello sia davvero un'opportunità anche per valorizzare la nostra città, il nostro centro storico. Quindi il chiostro diventerà un luogo anche qui diffuso, in cui gli enologi, i ristoratori, i pasticceri offriranno i loro prodotti, i loro piatti, le loro pietanze e i partecipanti potranno tranquillamente acquistare dei ticket con i quali si potranno recare al locale che preferiscono e lì assaggiare il piatto e quindi passare la serata con persone che non soltanto offriranno i loro prodotti, ma sarà anche l'occasione per ascoltarli, anche raccontare il loro lavoro e le loro ricette, i loro segreti del mestiere che fa di Prato una città che oramai si racconta non più soltanto nella sua dimensione storica del tessile, ma anche per il suo valore aggiunto in termini proprio della ristorazione e dei suoi prodotti tipici. Ricordiamo che l'appuntamento della domenica non è su prenotazione, in questo caso l'accesso è libero. Volevo chiedere anche un'altra cosa, anche quest'anno Prato ha rinnovato la collaborazione con l'Istituto Professionale Berghiero Francesco Datini, dunque c'è anche questo coinvolgimento del mondo scolastico. Sì, è una collaborazione a cui teniamo molto perché a noi interessa fare un lavoro è una programmazione che sia profondamente inserita nel territorio e per noi ecco il legame con la scuola, il legame con l'Istituto Professionale di settore è un'opportunità per coinvolgere questi ragazzi, farli partecipare, farli diventare protagonisti in una manifestazione dell'amministrazione comunale e farli misurare con un evento importante che per noi è fondamentale perché garantisce un contributo davvero essenziale anche alla riuscita della manifestazione ma che pensiamo possa essere anche un'esperienza utile anche per loro, per il loro percorso di studi. Prima ho detto che il Prato è un appuntamento atteso dai Pratesi ma non solo perché in effetti si sta, diciamo, col passare degli anni creando anche una fama al di fuori dei nostri confini. Cosa vi attendete per questa edizione? A noi interessa coinvolgere naturalmente molto i Pratesi, i residenti a Prato in provincia ma lo scopo dell'evento, della manifestazione, visto che appunto è seguita dall'assessorato al turismo, è quella di raccontarla a livello nazionale. Noi riusciamo, grazie al lavoro dell'ufficio stampa, a raggiungere tutte le riviste di settore, i siti specializzati, i giornali anche nazionali, che ci permette di raggiungere un pubblico vasto, di uscire anche a livello locale, nel Lazio, nelle Marche oppure nel Nord Italia e avere l'opportunità di raccontare questo lato della città, che non sempre negli anni è stato sufficientemente valorizzato, ma che ultimamente ha acquisito un profilo davvero rilevante. Quindi è anche un'occasione per raccontare Prato bene, per fare quella comunicazione positiva, che poi ci permetterà anche di attrarre persone che magari vorranno venire a Prato per passare un fine settimana, assaggiando i nostri prodotti e conoscendo i nostri registratori e i pasticceri, magari rimanendo anche a dormire, quindi incrementando quello che è il flusso turistico e quindi anche per lo sviluppo economico del territorio. In questi ultimi due minuti che abbiamo a disposizione vorremmo anticipare anche un'altra iniziativa, poi avremo modo di illustrarla nei dettagli, nei prossimi spazi informativi, che però ha un po' anche questa, la stessa filosofia di Prato, quella di valorizzare un po' il nostro territorio, le nostre eccellenze. Intanto vediamo insieme questo filmato e poi ne parliamo. La via Medice a Prato, come è risaputo, sta puntando sempre più sui cammini, la via Medice è uno di questi e ci sarà una festa dedicata appunto a questo storico cammino che si terrà domenica, come possiamo vedere dalla locandina, domenica 12 giugno alle Cascine di Tavola, con tutta una serie di iniziative che vanno dallo street food alle escursioni, esibizioni e quant'altro. Assessore? Sì, diciamo come lei diceva, Prato si sta caratterizzando sempre più come un crocevia di cammini, quello di cammini è un settore turistico molto importante che si è molto sviluppato durante la pandemia perché le persone non potevano viaggiare molto lontano e quindi hanno riscoperto i sentieri e i cammini vicino a casa, è un turismo lento, sostenibile, anche economico e sicuro anche da un punto di vista sanitario, che permette di conoscere meglio i luoghi che si attraversano e quindi la via Medice per noi da questo punto di vista è un'occasione imperdibile perché è un cammino davvero eccezionale che collega Prato con Fuscecchio, si può fare in 4 giorni, sono più o meno 80 km e attraverso un territorio bellissimo che è quello del Montalbano che è costellato da queste ville Medice, da qui il nome della via, che permettono di tenere insieme la parte storica, artistica, enogastronomica e anche naturalistica del nostro territorio. Prato è il comune capofila di questo cammino e quindi abbiamo deciso di fare quest'anno per la prima volta la festa della via Medice con tutti e nove i comuni che fanno parte della via e che avrà base alla Cascina di Tavola, presso la Casa del Cacciaio, dove si alterneranno tante manifestazioni di carattere sportivo con i ragazzi, ci sarà una ultramarathon che partirà da Fuscecchio e farà 40 km di corsa fino alla Cascina di Tavola per arrivare proprio in tempo per la festa, avremo stand enogastronomici del territorio, momenti anche di dibattito, avremo gli autori delle due guide dedicate alla via Medice fino a ora pubblicate, avremo tanti laboratori didattici per bambini e tante manifestazioni anche di carattere sportivo, anche gli esbanderiatori di alcuni comuni e quindi gruppi storici dei comuni che fanno parte della via. Quindi un'occasione per valorizzare non solo e tanto le Cascine di Tavola che sono sempre un luogo molto bello del Pratese, ma in generale questo cammino che davvero ci permetterebbe di intercettare anche qui tanti flussi che sono interessati a questo tipo di turismo più esperienziale, più lento, ma anche più rispettoso dei territori che attraversa. Un appuntamento dunque da non perdere anche per i Pratesi che hanno modo così di viaggiare stando a casa, potremmo dire così, perché le bellezze che abbiamo attorno sono talmente tante che è ancora da scoprire fino in fondo per molti di noi. Allora sicuramente torneremo a parlare della festa della via Medice, intanto vi ricordiamo l'appuntamento che come vedete dal titolo di questa nostra trasmissione che volge al termine IT Prato, sabato 4, domenica 5 di giugno con tante iniziative, vi consiglio nuovamente di consultare il sito internet della manifestazione per scoprirle e partecipare. Grazie Assessore Bosi, grazie a voi, grazie a voi per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi, intorno alle 9 e torna domani dopo il telegiornale delle 20 e 30. Grazie a voi, grazie a voi.